Un calvario inaudito, ecco, e poco simpatiche anche le eccezioni che ha sollevato il Ministero per cercare di non pagare questo cittadino. L'Odissea inizia nel 2004, quando il protagonista di questa triste vicenda è entrato in ospedale per ricevere delle trasfusioni di sangue per un problema alle piastrine, ma ne uscito con l'epatite C, scoperta solo grazie ad un controllo medico avvenuto successivamente all'intervento. Il campanello d'allarme, un dolore al fianco destro. Una volta che la causa della malattia è stata fatta risalire all'infusione di sangue infetto, il paziente, che all'epoca aveva circa 30 anni, ha fatto domanda di indennizzo alle apposite strutture statali, ricevendo però solo un rifiuto. Inizia così il calvario sanitario e giudiziario del Trevigiano. Faccio presente che prima di arrivare al ricorso avevo scritto e al Ministero e all'ospedale. L'ospedale attribuiva le responsabilità al Ministero e il Ministero attribuiva le responsabilità all'ospedale. C'era uno scarico a barile. Peraltro, esaminando tutti gli atti e la normativa, ho verificato che la responsabilità è del Ministero. Il Ministero si costituisce nella causa davanti al Tribunale di Treviso e mi recepisce innanzitutto il fatto che erano decorsi tre anni, oltre tre anni, fra il momento in cui aveva contratto la malattia e il momento in cui aveva fatto la prima domanda di indennizzo. Le battaglie legali continuano fino a che il giudice non ritiene che i tre anni decorrano dal momento in cui il paziente ha la piena consapevolezza di aver contratto la malattia dalla trasfusione di sangue infetto. Il Tribunale di Treviso riconosce così il diritto del cittadino ad essere risarcito. Ma l'Odissea non finisce qui perché il Ministero presenta appello. E arriviamo alla Corte d'Appello di Venezia che nel 2017 emette sentenza di conferma del diritto all'indennizzo. Da quella data là è stato interessamenti anche telefonici col Ministero, era promesso che sarebbe avvenuto il pagamento, cosa che non è avvenuta. Quest'anno, a questo punto, ho dovuto iniziare un nuovo procedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per far mettere in esecuzione le sentenze del Tribunale di Merito. La parola fine alla lunga questione giudiziaria viene scritta proprio in questi giorni, dopo 18 anni di processi e udienze per vedere riconosciuti i propri diritti ed essere finalmente risarcito. Una cifra che ammonta più di 127.000 euro, ma non solo. Il Ministero ha comunicato, il 22 di settembre, che ha provveduto a effettuare il bonifico a favore del cliente e ha disposto per che divenga riconosciuta la pensione.